Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Turbo24 Trading Room, oggi in compagnia di Bruno. Buonasera Bruno. Ciao Andrea, ciao a tutti, buonasera. Allora, ricordo a tutti che da poco siamo partiti con la promo valida per tutti i conti Turbo24, che è il cashback, ricordo anche brevemente come funziona. Per tutti gli ordini superiori ai 500 euro è previsto un cashback. Questo cashback viene applicato quindi su quell'operazione dell'ordine di 3 millesimi di euro per ogni Turbo. Quindi vi faccio un esempio, compro 1000 Turbo, saranno 3 euro di cashback. Questo cashback arriva nei primi 10 giorni del mese successivo, quindi ad esempio il cashback di gennaio è stato già pagato nei primi 10 giorni di febbraio. Il cashback maturato a febbraio verrà pagato invece nei primi 10 giorni di marzo e così via. Allora Bruno, cosa ci fai vedere di bello oggi? Ma adesso abbiamo aperto un'operazione prima, questa adesso è in diretta sul Nasdaq, l'indice tecnologico americano, lo ricordo. Oggi il mercato è venuto giù bene soprattutto in Europa e adesso bisogna stare attenti ovviamente ai rimbalzi violenti perché in questi giorni ci ha abituato proprio a delle inversioni velocissime di fronte. Però noi abbiamo il nostro segnale, per la verità il segnale bello era quello precedente, questo su questa barra che vediamo delle 15 e 10, questo era molto bello. Questa, lo ricordo, è la tecnica che ho illustrato nel libro che IG regala ai propri clienti, ma anche a chi ne faccia richiesta. La tecnica delle tre medie, che ho un po' modificato il mio piacimento, nel senso che utilizzo tre medie 19, 34 e 59 periodi, sono tre medie esponenziali. La tecnica prevede che quando le tre medie si incrociano dalla più veloce alla più lenta, si entra al primo test della media sotto il minimo, in questo caso perché andiamo short, della barra che ha testato le medie. Quindi questo sarebbe stato il primo segnale d'entrata, se me lo fossi perso ci sarebbe stato un altro bellissimo segnale qua. Io qui l'ho fatta giusto per far vedere come funziona la tecnica, ma qui si rischia di fare la fine del topo, come dice il mio amico Massimo, cioè di arrivare quando la festa è finita, no? Perché il trend si è già sviluppato e quindi una prima volta è andata bene, una seconda è andata bene, arrivi tu, la fai e poi magari ti va contro. Però la regola c'è, la tecnica prevede l'entrata short e facciamo l'operazione e stiamo in attesa. La domanda che ovviamente viene spontanea o che verrebbe spontanea è dove ti stoppi quando la barra chiude sopra alla media. Quindi attenzione, qui voglio dire una cosa che abbiamo già detto tante volte, ma se c'è qualcuno nuovo in ascolto probabilmente fa bene fare un ripasso, perché io qui ho comprato short 500 pezzi di questi, 500 contratti, diciamo così, del Nasdaq. Intanto dobbiamo dire una cosa, che i Turbo hanno questa peculiarità, cioè sia che vado short, sia che vado long, sia che vengo al ribasso, sia che compro, io devo sempre cliccare su buy per entrare, quindi è sempre un acquisto che faccio del Turbo. Mentre il sell mi serve per chiudere l'operazione, questa è la differenza dei CFD dove posso comprare o vendere allo scoperto quel caldo bio sell, anche in apertura. E questa è una prima cosa. La seconda, molto importante, è che, questo ve lo dico perché me l'hanno chiesto in tanti, è che non bisogna farsi spaventare dalle quantità, no? Cioè se noi siamo abituati a fare il CFD, sappiamo che magari facciamo il CFD da un euro, facciamo il CFD da 10, da 20, e quindi uno può spaventarvi e dire, ma tu hai comprato 500 contratti. No, ma qui 500 contratti, voi dovete considerare che il Turbo è molto più simile a un'azione rispetto ad un CFD, quindi questo è vero che è un indice, ma viene trattato a livello di numero di contratti, come fosse un'azione, possiamo paragonarlo a un'azione da questo punto di vista. Quindi comprare 500 contratti di Nasdaq non è come comprare 500 future, 500 indice del Nasdaq, che è del USTEC. Quindi, quello che devo andare a vedere è dove posiziono il mio livello di, diciamo, di KO, di knockout. Che cosa succede? Parlando di questo, succede che il knockout, vedete, è qui in alto. In realtà io vado sempre a scegliere, a me basta scegliere il primo, è una cosa molto semplice, adesso poi andremo a vedere qualche altro strumento, tipo, ma possiamo anche farlo. Andiamo a prendere il CRUD. Allora, vedi che se io, per esempio, decido in questo momento di andare long, anche perché le medie si sono incrociate e ovviamente devo attendere che il prezzo ritorni all'interno delle medie, ma per farvi capire, io voglio andare long, no? Qui ci sono tutta una serie di turbo. Questi si scelgono con il livello di KO in relazione a dove io voglio mettere lo stop. Però, siccome io sono un tradeo intraday, sono un tradeo che fa operazioni abbastanza veloci, molto veloci a volte, e quindi difficilmente porto overnight, stop, giorni con una posizione aperta. Quindi a me, normalmente, mi basta andare a prendere il primo livello. Quindi io non devo diventare troppo matto, no? Prendo il primo livello di knockout, vedete che è già abbastanza distante da quello che è, o potrebbe essere il mio livello di stop loss. Adesso, combinazione, questo livello potrebbe anche proprio andare bene come stop loss, e quindi questa sarebbe la mia perdita massima, sarebbe di 1.145-1.150 euro, no? Allora io cosa posso fare? Vado a dimensionare qua il numero di operazioni, il numero di contratti, in relazione a quello che vuole essere il mio stop. Supponiamo che sia di 225. Ma questo è lo stop che io prendo se tocco il livello di knockout. Ma io posso anche chiudere la prima l'operazione, cioè io posso decidere di mettermi uno stop sotto il minimo di questa barra, quindi io mi posiziono a 91.35 per esempio, e quindi lo stop non sarà più di 220 euro. Se voglio 220 euro, a quel punto devo andare ad aumentare il numero dei contratti, perché 458-460 sarà lo stop che io prendo al livello di knockout, ma se più o meno lo stop è a metà percorso, sarà di 230. Cioè si possono fare anche dei calcoli più, diciamo, fatti meglio, ma a occhio e croce si riesce a calcolare anche lo stop, facendo in questo modo, cioè andando a vedere più o meno dove mi posiziono con lo stop rispetto al knockout. Questo è un modo molto veloce, perché quando dovete entrare in modo molto veloce sul mercato, questo è un sistema abbastanza artigianale che però funziona. Ovviamente, che cosa succede? Adesso in questo caso non siamo entrati, però andiamo a riprendere per esempio il Nasdaq, il Nasdaq 100. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo qua. quello sono andato a prendere, il Nasdaq 100, ah no, eccolo qua, avevo preso l'SP. Ok, eccolo qui. Qui siamo adesso entrati con la tecnica, il mercato sta andando bene, ovviamente lo stop, se io vado a vedere dove l'ho messo, è molto in alto, rispetto alla mia entrata. Quindi io mi stopperò sicuramente prima di arrivare a quel livello. Quindi il concetto che deve passare è che quello che io devo andare a vedere non è tanto il controvalore del livello di knockout, quanto l'effettivo livello dove io vado a mettere lo stop. E in base a quello regolare il numero di contratti. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Andrea. Sì, sì, allora, oltre a questo, soprattutto per quanto riguarda il Nasdaq, dove di fatto quando si va a comprare il future, stiamo parlando di un contratto che vale 100 dollari per punto, il mini 20 dollari per punto, ecco comprando 500 turbo, stiamo parlando di 5 euro per punto, quindi comunque sia un'operazione, come diceva Bruno, fattibile, anche se metto un numero come 500, stiamo parlando di 5 euro per punto di Nasdaq, quindi ogni volta che il Nasdaq sale o scende, noi guadagniamo, perdiamo 5 euro per punto. Euro perché? Perché tutti i turbo sono comunque quotati tutti in euro. Quindi ricordatevi, questo, scusami Andrea, è un altro vantaggio, perché capita spesso quando invece fai il future, che il future sia quotato in dollari, cioè ogni strumento è quotato nella sua valuta originale, anche se la ProRealTime, per esempio, quando si fanno i CFD, perché sapete che IG tratta anche CFD, adesso però questo strumento è molto innovativo, da questo punto di vista è anche più semplice da utilizzare, il turbo, però c'è anche la conversione, ma qui invece ce l'abbiamo tutti in euro, quindi è molto più semplice da capire che cosa stiamo guadagnando e che cosa stiamo perdendo, perché poi dovete sempre fare la conversazione in dollari, dovete moltiplicare per i cambi in euro, diventa sempre complicato. Qui invece abbiamo direttamente il profit loss che è in euro, quindi quelli che stiamo guadagnando adesso sono 56 euro. Poi abbiamo un'altra operazione aperta, dove invece stiamo perdendo qualche cosa, con molta probabilità. Scusa, ti ho fermato, ma... No, 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 tranquillo. Quindi queste sono le operazioni. Eccolo qua, 38,50 euro. Abbiamo aperto GPUSD, adesso vi faccio vedere perché, sempre stesso criterio, questa qui per la realtà non era bellissima, perché è continuata ad entrare e uscire, però per farvi capire come funziona questa tecnica, ancora una volta ho fatto il pullback all'interno e uscita, l'abbiamo comprata. Scusa, Andrea, dico soltanto dove metto il target io, proprio per la dimostrazione che per me sono operazioni molto veloci. In genere vado a prendere il massimo precedente, che qui è questo, e mi metto un poco sotto. Quindi quando arriva in prossimità del massimo, qui andremo a chiudere l'operazione. La stessa cosa facciamo, ovviamente, con il Nasa, cioè quando arriva in prossimità dei minimi, chiudiamo l'operazione. Ovviamente qui si può splittare, poi no, cioè io ho aperto 500 contratti, ne posso più da 250 qui, e poi vedere magari di gestire in trailing stop, come si dice, quindi cercando di lasciar correre dei profetti, si può fare di tutto. La cosa bella è proprio questa, che avendo un maggior numero di contratti, si può anche uscire poi in modo progressivo. Quindi chiuderne 100, poi altri 100, poi altri 100. Ovviamente non ci sono commissioni, e quindi questo è l'enorme vantaggio di questo strumento rispetto agli strumenti tradizionali, dove ogni volta che enzo che esco parlo delle commissioni. C'è FD a parte, ovviamente. Bene. A te la parola, Andrea. Allora, vi ricordo che qualsiasi operazione sopra i 100 euro è senza commissioni. Quindi quando si va a operare con un ammontare sopra i 100 euro non si pagano le commissioni. Poi sopra i 500 invece, come vi dicevo prima, c'è addirittura il cashback. Questo vuol dire anche, tra l'altro, che se dovessi entrare ed uscire da una posizione allo stesso prezzo, non solo non pagherai le commissioni, ma addirittura avrai il cashback, nonostante fossi uscito, al prezzo di acquisto. C'è Salvatore che chiede, si può inserire lo stop loss? Beh, tecnicamente sì, si mette un ordine stop market. Lo stop market è un ordine che è disponibile solamente quando si va a effettuare un ordine di vendita. E si può fare un ordine di vendita solamente quando abbiamo già comprato il nostro turbo. E chiede Salvatore se ce lo può far vedere. Bruno, se hai una posizione aperta, lo vediamo. Allora, andiamo a... Sì, posizioni aperte ce ne sono. Stia parlando di stop loss o di che cosa? Di stop loss? Sì. Di cosa sta parlando Salvatore? Sì, sì, uno stop loss che sarebbe uno stop market. Di mettere uno stop loss, ok, di mettere uno stop loss prima che venga raggiunto il livello del turbo, del KO, scusa. Ok? Del knock out. Sì. Quindi, allora, supponiamo, intanto dobbiamo stabilire dove mettiamo questo ordine stop e supponiamo di volerlo mettere a 72,10 qua. Ok? Quindi, possiamo metterlo su questa, su questa, su questa posizione. perché non vedo la flag qua? Allora, prima devi, sì, aprire una posizione e poi mettere lo stop market. Ma questa è aperta, però, la posizione. È aperta? Neanch'io la vedo, però. Forse... Ah, su, su. Prova a andare indietro con la rotella a fare il zoom out. Comunque, è il... è quello da 0,724, è quello lì, è il primo. Se tu prendis il primo livello, è quello lì. Esatto. Quindi, in questo caso, ne possiamo fare sell. Perché? Perché li abbiamo già comprati, di conseguenza, abbiamo l'opportunità di venderli. Oppure, inviare un ordine, un ordine, in questo caso, non a mercato, ma un ordine stop market. Cioè, un ordine che viene eseguito a un livello peggiore rispetto a quello attuale, ma si comporta come un ordine a mercato quando questo succede. Lo stop loss, messo in questo modo, anzi, magari Bruno, farò vedere dove c'è il suo tipo di ordine. Prova a cliccare lì sul menu a tendina dove c'è... Esatto. E... E lì c'è stop a mercato. Nella tendina e qua ci sono i diversi tipi di ordine. In questo caso viene a scegliere stop a mercato. Esatto. Quello stop a mercato, tra l'altro, è uno stop a mercato, uno stop loss speciale, perché non è come tutti gli altri stop loss di altri mercati quotati, ma, della verità, non viene inserito sui server del broker o dell'impresa di investimento e scatta e va alla borsa di riferimento quando un prezzo viene toccato, ma piuttosto risiede già all'interno del server dell'MTF o della borsa. Questo è un caso unico in Italia al momento. Questo vuol dire che la latenza dell'ordine, cioè il tempo che ci mette l'ordine ad essere eseguito è proprio un minimo. Allora, vediamo un po' di metterlo a 721. Quindi io devo andare a vedere qui metto l'ordine e qua vedo a quanto deve stare sottostante, ok? Per avere l'ordine. Quindi io adesso qui metto 035, livello di attivazione dello stop. quindi io l'ho praticamente venduto all'incirca più o meno su questo livello quanto stiamo adesso? No, sta perdendo qualche cosa quindi un pochettino più in basso. Quindi se va a 035, quindi se qui lo troverò a 035 mi esegue l'ordine. Quindi facciamo così e abbiamo inserito lo stop market. Quindi se raggiungerà il livello di 035 nel book, chiamiamo il book in questo, nel ticket di negoziazione, mi eseguirà lo stop. chiaramente perché magari è di difficile è difficilmente intuibile. Se io ho comprato ho comprato 046 quindi il prezzo sale d'accordo ma questo scenderà d'accordo? Sì. E quindi in quel caso mi eseguirà l'ordine. Andiamo a prendere Newstack a vedere come siamo messi ancora ho preso l'altro è risalito vedi? La festa forse è finita ma andremo a vedere. Comunque chiaramente poi le operazioni vanno chiuse se non vanno bene per cui questa qui vedete che più o meno tutte sono configurate nello stesso modo perché il mercato oggi si è mosso abbastanza all'unisono sia l'Europa che l'America perché stamattina l'Europa scendeva l'America era abbastanza era abbastanza ferma dopodiché nel pomeriggio hanno cominciato a venire giù tutte e due l'America per la verità di meno e questo non si capisce perché qui ci sono i venti di guerra dove è coinvolta l'America l'Europa meno se vogliamo però forse meno dal punto di vista dell'impegno delle truppe dell'impegno militare ma magari è più coinvolta perché siamo più vicini noi all'Ucraina rispetto all'America che fanno la guerra da lontano sì è vero comunque non so se ci sono domande altrimenti magari passiamo un po' anche a analizzare un po' allora aspetta che te le leggo dammi un secondo non so perché c'è uno spazzetto piccolo si possono mettere stop loss e target insieme non ancora nel senso che o si mette uno stop loss o il target il target è l'ordine limite in questo momento non si possono inserire entrambi gli ordini sulla posizione quindi diciamo che io inserirei lo stop nel momento in cui poi la posizione prende la giusta direzione togliamo lo stop e mettiamo il take profit sì però la cosa che si può fare Andrea si possono mettere degli alert per cui posso essere avvisato quando un mercato arriva arriva in qualche in qualche post che a me interessa insomma se arriva vicino al target se arriva vicino allo stop può fare anche serie degli alert da qua eh sì esatto esatto poi c'è un'altra domanda lo stop messo in questo modo è garantito no allora risiede sul server dell'MTF quindi è molto veloce ma non è garantito garantito è il livello knockout quello scasso il mondo è assolutamente garantito gli altri non possono essere garantiti poi ce n'è una che è arrivata proprio adesso avrei tre domande veloci se possibile questo webinar verrà postato sul canale youtube sì assolutamente andando su youtube cercando IG Italia li trovate tutti già da domani mattina sarà disponibile poi ce ne sono altri di di video quindi potete andare a vederli tutti e se vi piace fatecelo sapere come si può richiedere il libro da inviando un email scusa Andrea ti interrompo un attimo prima che poi sai che con la mia età poi la memoria non è il massimo mi dimentico quindi te lo dico subito sempre a proposito dello stop loss che è costituito dal livello di knockout tu l'altra volta avevi detto una cosa interessante se non ricordo male perché ripeto sempre il problema di memoria avevi detto che a differenza cioè qui non c'è il problema che può esserci sul future che può esserci da altre parti che mi salti lo stop perché apri in gap perché questi sono mercati che sono sempre quotati o ricordo male sì 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 sono quotati 24 ore su 24 quindi è difficile che ci sia un gap e tra l'altro di notte il livello knockout non si attiva cioè comunque vi assicura che se il mercato dovesse scappare nella direzione opposta il livello knockout è lì e le perite massime sono determinate dal livello knockout anche perché quando tocca il livello knockout si azzera il livello del turbo però oltre quello non si può andare però se succede di notte rimane in stand by quindi cosa vuol dire quando il mercato sottostante in questo caso germani 30 germani 40 adesso se il mercato dovesse cominciare a salire come un matto e toccare il livello knockout e superarlo andare a 15.460 il nostro turbo con la leva più alta quindi il primo livello knockout non verrebbe liquidato immediatamente resterebbe in stand by fino a domani alle 9 quando riaprono le azioni neanche il future le azioni tedesche il cash esatto quello che è chiamato cash esatto quindi in quel momento si va a verificare se l'indice DAX è sopra o sotto quel livello se è ancora sopra ok viene liquidato la massima perdita era quella perfetto knockout è garantito quindi tutti salvi se invece è tornato sotto il livello knockout non viene liquidato quindi si rientra in gioco passatemi la parola e quindi insomma questo questo doppio questa doppia velocità ci protegge ma se c'è la possibilità di rientrare si rientra questa è una cosa fantastica sì è veramente non so chi quanti riescono ad apprezzarla ma vi garantisco che è fantastica perché se voi avete invece un future per dire il future nella notte quando apre quando apre il Germany va nel vi va a livello di knockout che abbiamo a livello di knockout a livello di vostro stop lo prende e basta anche se dopo rientra non c'è niente da fare ormai avete chiuso la posizione poi invece se va per esempio questa notte il DAX era sceso era sceso parecchio era arrivato a 200 circa 230 poi da lì alle 8 è risalito quindi è proprio l'esempio lampante è risalito fino a 400 addirittura per cui qui se avessi avuto il future ti avrebbe buttato fuori dal mercato avresti perso dei soldi con invece il turbo in quel caso sareste rimasto nei giochi addirittura potrei anche andare a target eh sì esatto bene l'altra domanda sul libro mi sembra eh sì come faccio a ricevere il libro basta scrivere a informazioni chiocciola ig.com poi terza questa tecnica delle tre medie applicabile a qualsiasi strumento finanziario o solo da alcuni ad esempio tutte le copie valutari o solo alcune tutte le commodity eccetera grazie in anticipo bella domanda allora eh in linea di massima la risposta che posso dare è che più uno strumento è liquido cioè più è negoziato e più la tecnica funziona non funziona per esempio sulle azioni poco liquide se io la uso sulle azioni poco liquide questa questa tecnica non funziona però in genere tutti gli strumenti quotati che vedete qua che che quota i G sono tutti strumenti molto liquidi e quindi funziona molto bene qui non so il crude ma anche sui titoli tipo inchiesta san paolo vedete che anche qua ha dato dei segnaloni no qui ha dato un bel segnale short qui ne ha dato un altro qui ne ha dato un altro questo qui no perché quando va sopra la media 40 si invadi dal segnale questo qui pure è nato sopra la media 40 si invadi dal segnale ma guardate che bei segnali che dà anche sui titoli liquidi la stessa cosa al rialzo quindi lasciando perdere anche questa fase che magari è difficile comprensione però qui il primo segnale secondo segnale questo il terzo quarto insomma e poi attenzione perché la festa prima o poi finisce infatti vedete che qui è finita la festa però insomma ecco vedete che è una tecnica che funziona che funziona molto bene chiaro non è che funziona sempre come tutte le cose però guardate che bei segnali che dà cioè quando c'è poi c'è un trend è riuscito a restare lento nel trend insomma è tanta roba non è non è da poco questa tecnica qua è molto molto bella e con queste tre medie in particolare benissimo poi sono arrivate un altro paio di domande dammi un secondo ora se voglio cambiare di nuovo non so di cosa a cosa si riferisce Salvatore alla prima domanda era forse riguardo lo stop beh si può cambiare lo stop si può cambiare in qualsiasi momento si cambia il livello poi anche i cross valutari beh credo su tutto sì più è liquido è meglio sì sì assolutamente assolutamente finite le domande molto bene quindi andiamo a vedere il nostro portafoglio ecco il consiglio è sempre quello di diversificare di non puntare soltanto su uno strumento perché chiaramente posate su uno strumento poi diventa rosso o nero se invece cominciate a fare un piccolo portafoglio anche diversificando in base alla vostra liquidità del conto ecco che poi avete magari un'operazione che sta perdendo un po' però magari le altre due guadagnano viceversa ma poi alla fine come diceva il grande totò è la somma che fa il totale quindi alla fine bisogna vedere insomma che le cose vadano bene nel loro complesso e siccome questa è una tecnica che complessivamente dà dei buoni risultati in genere quando si diversifica ecco che per esempio questa qui è la prima operazione che adesso se accelera ancora un pochettino andremo a chiudere più o meno qua sotto è chiaro che è bene farla ma questa è una regola generale che vale sempre cioè più si diversifica e meglio e meglio è poi uno può anche decidere raggiunto un certo profitto di dire vabbè allora basta sono a posto chiudo tutto senza diciamo il target può anche essere un target monetario se io decido di guadagnare 100 euro al giorno e ho raggiunto i miei 100 euro posso decidere di chiudere e chiudo tutto chiudo sia quello che è in guadagno e sia quello che è in perdita per esempio c'è un'operazione in guadagno e due in perdita ma io ho raggiunto il mio target e chiudo tutto non c'è bisogno di perché la tendenza purtroppo è quella di chiudere dove guadagno e lasciare aperto dove perdo che è la cosa più sbagliata che ci sia perché teoricamente dovrebbe fare il contrario cioè chiudere dove perdo quindi tagliare i rami secchi e lasciar correre dove guadagno questo in linea di massima poi anche questo non è che sia proprio vero al 100% però questo è quello che vi consiglio cioè se voi vi fate un target monetario giornaliero e raggiunto quel target chiudete le operazioni punto e basta dove sono sono quindi senza bisogno di raggiungere il target questo è un altro modo di concepire il trading però racconto sempre di quel mio amico ingegnere di Napoli tanti tanti anni fa io avevo iniziato da poco a fare trading eravamo in una chat allora c'erano le chat che erano appena nate stiamo parlando di 20 anni fa io ho iniziato nel 1998 a fare trading e lui diceva devo andare a fare la spesa mi servono mi servono 30.000 lire 40.000 lire allora era ancora in lire e si metteva lì allora si facevano degli altri strumenti un po' particolari fin quando guadagnava quelle 30 40.000 lire che gli serviva per andare a fare la spesa e poi diceva ciao Bruno ti saluto io vado con mia moglie al supermercato questa è la storia vera sembra una barzelletta ma andava proprio così quindi uno può decidere ho guadagnato 120 euro 110 euro chiudo le operazioni buonanotte al secchio domani un'altra giornata e mi rimetto qua a lavorare questo ve lo do come consiglio qui pure c'era un bel ecco una delle peculiarità di questa tecnica è che poi ci sono diciamo così come sempre in tutte le cose delle possibili variabili perché io posso decidere di entrare come sotto il minimo della barra che ha invaso l'area delle tre medie sotto il minimo oppure posso decidere di entrare appena la barra esce dalla media quindi entra e riesce quando esce dalla media rientro io personalmente preferisco aspettare che la barra chiuda quindi io faccio una terza cosa ancora la barra entra dentro poi la barra che chiude fuori appena chiude fuori la barra io entro questo in alcuni casi ti dà un vantaggio in alcuni casi ti dà uno svantaggio come tutte le cose c'è il dritto rovescio della medaglia il vantaggio che ti dà è che se la barra va fuori dalla media e poi rientra dentro tu non entri e poi magari può essere un'inversione perché la barra che va fuori magari supera anche il minimo di quella magari qua fa un hammer cioè l'hammer è quella figura che ha un'ombra prolungata sotto tipo questo che in genere è una figura di inversione rialzista e quindi in quel caso tu sei salvo perché la barra ha fatto l'ombra sotto è andata a chiudere dentro tu non entri lo svantaggio è che ovviamente se la barra che esce poi tu non entri subito e fa una chiudura molto sotto è chiaro che il tuo entry point poi è molto distante ma a quel punto puoi decidere di non fare l'operazione e quindi comunque diciamo l'onore è salvo diciamo così andiamo a vedere come sta andando qua qui io più o meno chiuderei qui se ci arriva adesso comunque è un po' affaticato il mercato vediamo se da un'altra spinta un'altra spinta di bassista più o meno io lo chiuderei qua 1.43 1.43 più o meno qua vediamo questo è il Nasdaq l'oro ha dato dei bei segnali oggi rialzisti ma chiaramente ce li siamo mangiati tutti perché ecco un'altra cosa vedete poi guardando i grafici vengono in mente delle peculiarità allora questa tecnica sai Bruno che c'è un utente che scrive proprio che è entrato long sull'oro oggi ho lasciato le medie impostate come la piattaforma a 25 probabilmente ha usato le medie mobili quindi ha usato le medie è entrato long sull'oro oggi quindi lui è entrato bravo eh sì io oggi io oggi ero in studio con l'imbianchino che mi stava ripristinando una parete perché ho avuto un'infiltrazione quindi questa operazione non ho potuto farla però sì tutti i giorni ci sono delle delle buone opportunità poi uno può decidere di usare 5 minuti come uso io può decidere di usare un altro time frame insomma dipende un po' dalle dalle attitudini di ciascuno no? trading più veloce trading più tranquillo eccetera vi dico però che il time frame veloce come 5 minuti serve anche a chi ha poco tempo per stare sul mercato no? perché un conto è che io devo aspettare una barra da 60 minuti che si chiuda o da 4 ore peggio ancora e un conto è una barra da 5 minuti una barra da 5 minuti mi dà un segnale poi mi dà un altro eccetera ma stavo dicendo una cosa importante cioè questa questa tecnica prevede che se mentre il mercato scende e invade l'area compresa tra la media più veloce e la media più lenta e poi riparte ma se entra in posizione ma se scende e va sotto la media 40 il setup per così dire è annullato ma allora che cosa vuol dire se va sotto la media 40 io personalmente annullo il setup se il mercato va sotto la media 40 e chiude sotto la media 40 perché se ci ragioni un attimo Andrea il fatto che il mercato vada sotto la media 40 e poi mi torna su ancora una volta mette a segno quello che noi chiamiamo un pattern delle candlestick che è l'hammer e l'hammer è un pattern rialzista in questo caso ovviamente ma è un pattern rialzista quindi ogni volta che io ho un hammer come questo cioè ho una figura con una un'ombra sotto importante questa è una figura che normalmente è una figura di inversione rialzista quindi perché perdere l'occasione di tre media che sono allineate e un hammer che mi va proprio a lambire quindi esce ma poi rientra e questa è chiaramente una figura rialzista e quindi io mantengo valido il setup è chiaro questo è importante perché vedete anche qui c'è una barra che entra dentro ma poi riesce quindi mi va fuori dalla media più lenta ma poi rientra dentro quindi ogni qualvolta ho queste situazioni queste qua sono ancora molto più belle di una di una barra che entra appena appena e poi esce perché qui mi ha proprio l'idea che hanno tentato di portare giù il mercato ma abbiamo avuto una spinta rialzista dei compratori quindi i compratori hanno detto di qua non si passa e hanno riportato sul mercato e allora da qua è ancora più facile che il mercato torni su torni al rialzo questo è un particolare importante che forse nel libro per motivi di spazio perché mi hanno obbligato a fare top pagine che mi ha detto Bruno non essere prolisso e quindi non ho potuto dire non è vero non sto scherzando però insomma poi dopo ci sono tante cose che vengono in mente mentre si parla si possono dire quando si scrive diventa molto più lungo spiegare una cosa per spiegare una cosa del genere facendola vedere richiede diverse pagine perché devi spiegare l'Humber devi spiegare che cos'è perché non tutti poi conoscono l'analisi candlestick non tutti conoscono le implicazioni di un Hammer e così via spero di essere stato chiaro comunque magari datemi un feedback se c'è qualcosa che non avete capito vediamo intanto le nostre posizioni direi che stanno andando molto bene il NAS è ora di chiuderlo come vedete e quindi andiamo a chiuderlo eccolo qua è arrivato sul nostro livello come si fa a chiudere il NAS ci sono tanti sistemi a me piace questo vado qua nel portafoglio clicco sell e poi faccio sell qui ok inserisci ordine qui ho lasciato però stop a mercato quindi ordine a mercato eh sì perché se c'è un ordine collegato dobbiamo eliminarlo e poi chiudere l'operazione ok adesso l'ho chiusa quindi qui abbiamo realizzato i nostri 240 euro siamo contenti teoricamente io posso essere contento della mia giornata queste altre due sono in pari potrei chiuderle tranquillamente e aver realizzato i miei 240 euro nei pochi minuti che siamo stati insieme a chiacchierare su questa meravigliosa tecnica che vale tanto oro quanto pesa come si suol dire perché questa è la più bella tecnica che io ho mai incontrato in tanti anni a parte altre questioni un pochettino più complesse un pochettino più articolate ma fra le tecniche di trading che ho messo a punto in tutti questi anni questa è diciamo quasi la migliore è la migliore per semplicità per semplicità è sicuramente la migliore semplice facile da capire visiva proprio quindi non ti puoi sbagliare esatto mi piace esatto esatto ecco qui per esempio noi abbiamo chiuso 500 pezzi perché le avevano aperte 500 nulla toglie che uno dice ma io ne posso chiudere 200 e poi me la gestisco le altre me le chiudo se il mercato continua a scendere cerco di ottimizzare i profitti si può fare quello che io dico sempre è cercate di avere un target monetario nelle vostre operazioni perché gestire graficamente diventa sempre complicato diventa stressante quindi se io devo seguire il grafico per voi avete visto che mentre erano aperte le posizioni andavo a fare altro ma io faccio sempre così perché meno guardo il grafico e meno danni faccio questo è pacifico perché quando noi guardiamo il grafico vediamo magari stiamo guadagnando 70 80 90 100 e siamo portati a chiudere l'operazione se invece non lo guardiamo lui lavora per noi certo può anche andare male d'accordo ma se l'operazione è impostata bene diciamo se noi abbiamo una tecnica che ci dà il 70 80% di probabilità di successo è chiaro che alla fine se io non guardo avrò quel 70 80% se ci metto le mani invece ecco che mettendoci le mani poi dopo rischio di fare danni più ci mettiamo le mani nelle operazioni e più facciamo danni questo ve lo garantisco proprio come si diceva al limone l'asta al limone garantito l'asta al limone è così non c'è pietà noi abbiamo purtroppo un grosso limite nel trading che non è tanto nelle tecniche perché le tecniche ce ne sono tante una più una meno valida però bene o male le tecniche lo capisci se sono valide la vedi la provi e dici questa è una bella tecnica questa è un'insegnato Bruno questa qua invece magari è un po' meno bella lo vedi subito poi ognuno ha il suo vestito per cui a uno piace di più una tecnica a uno di più un'altra ma quello che rovina tutto è l'approccio comportamentale sul mercato cioè quello che rovina tutto quello che chiamano psicologia che per me non è psicologia è proprio un tipo di approccio come ci rapportiamo noi con i soldi prima di tutto come il capitale che abbiamo cioè se abbiamo paura di perdere i soldi che abbiamo investito la disciplina perché la maggior parte dei trader vengono indisciplinati se i trader fossero tutti disciplinati quelle percentuali che leggiamo sui siti del 70% dei trader che perdono sarebbero completamente diverse sarebbero il 70% dei trader che guadagnano o anche l'80% perché qui è un problema veramente di disciplina perché non si dice mai io ho sentito io ho fatto un articolo sul mio sito su questo argomento e dico si dice che tantissimi trader perdono soldi sì ma quali sono questi tre che perdono soldi sono quelli che si improvvisano quelli che non studiano quelli che non si impegnano quelli che sono indisciplinati questi perdono soldi perché io i miei studenti sono tutti lì da vedere magari non saranno tutti ricchissimi però non perdono più soldi sul mercato o quantomeno galleggiano soprattutto all'inizio no? cioè un po' guadagni un po' perdi ma quelle fasi lì che ho attraversato anch'io in passato sono le fasi che poi se tu riesci a stare sul mercato perché la linea di galleggiamento nel trading quando tu cominci a guadagnare un po' e a perdere un po' guadagnare un po' a perdere un po' è quella che ti consente di fare esperienza perché hai ancora il tuo capitale a disposizione per fare trading hai ancora il tuo capitale psicologico cioè non ti sei abbattuto non ti sei affranto perché hai subito le grosse perdite non ti sei scottato sui fornelli no? quindi hai ancora il capitale sia psicologico che il capitale proprio monetario per fare trading e allora vai avanti vai avanti fai esperienza e siccome hai già una tecnica e fai esperienza alla fine finisci per guadagnare questo è il concetto quindi non improvvisatevi a fare trading cioè dovete bisogna studiare uno ha la fretta di fare il click e di vedere che guadagna ma se uno prima non studia non si impegna e non è motivato veramente a riuscire perché molti affrontano il trading così come un passatempo ma il trading non è un passatempo il trading è un'attività che vi può portare anche la dico vi può portare anche tanti soldi chiaro ve li può portare come in tutte le attività se vi impegnate io non ho mai visto uno che progetta un ponte se non ha prima fatto l'università si è laureato in ingegneria e poi è andato a gavetta in qualche studio di ingegneria importante per imparare come si progetta un ponte altrimenti poi il ponte finisce per cascare questo è tanto per per parlare di fatti non troppo neanche lontani nel tempo ma cioè capite bene il trading è la stessa cosa se non si studia non ci si impegna e non si fa non si fanno le cose su basi solide è inutile fare trading cosa lo fai a fare perché vedi il verde e il rosso come la roulette no non è questo il trading è bellissimo il trading col tempo finisce proprio per divertire io mi diverto a fare trading mi piace ho la passione forse si sente anche ma perché perché ma io ho studiato tanto cioè io ho passato le notti a studiare perché poi oggi avete la fortuna e ci sono tanti di noi che vi spiegano le cose ve le dicono chi più chi meno bene d'accordo però insomma avete la possibilità di imparare quando ho iniziato io non c'era niente zero assoluto ho dovuto perdere dei soldi io di tasca mia per imparare guardate anche qua adesso pull back ed è ripartito il mercato cioè dovete impegnarvi se volete riuscire nel trading e potete se volete fare del trading un'attività parallela alla vostra e ricordate non lasciate mai il lavoro se prima non avete imparato a fare trading e non guadagnate con costanza perché poi c'è un gap molto ampio anche tra lavorare quindi avere un'entrata fissa un'entrata o comunque un'entrata mensile e fare trading accanto quindi fare le due cose contemporaneamente puoi guadagnare in questo modo ma stai tranquillo che quando tu lasci il lavoro e fai trading e fai trading solo per guadagnare perché da lì ti deve arrivare il tuo sostentamento cambia tutto cambia tutto completamente quindi attenzione prima dovete diventare profittevoli bravi con costanza guadagnare con costanza almeno sei mesi un anno dove guadagnati con costanza e poi potete pensare a fare il resto certo quello che si può pensare di fare magari è ridurre qualche ora di lavoro se guadagno con trading questo sì perché ricordate sempre una cosa che il trading ci deve migliorare la vita non ci deve peggiorare quindi non è che devo stare come ho fatto io all'inizio e d'altra parte allora a me non me l'aveva spiegato nessuno e quindi io facevo le tre e le quattro di mattina tutte le volte per studiarmi grafici provare eccetera eccetera poi non c'erano neanche gli strumenti di oggi questa piattaforma che mette a disposizione i G me la sognavo io nel 1998 c'era il doppino della telecom e c'era il televideo se andava bene quindi queste cose qua non esistevano quindi ragazzi studiate perché il trading è veramente bello è appassionante però bisogna applicarsi è giusto Andrea sei d'accordo ho detto qualche cosa assolutamente assolutamente anzi per coloro che magari non hanno mai avuto un'esperienza di trading è possibile provare il conto demo perché comunque sia i turbo ci sono anche sul conto demo quindi è possibile proprio cimentarsi in questa palestra dopodiché quando ci sente pronti si comincia con poco e poi se c'è passione se si è profittevoli si può aumentare piano piano certo la demo io dico aggiungo una cosa la demo è importante però è importante per imparare la piattaforma cioè imparare a mettere gli ordini lo stop loss come scelgo il turbo come imposto il grafico eccetera una volta che avete fatto questo periodo e che siete sicuri sull'inserimento degli ordini conoscete bene la piattaforma eccetera cominciate andate in reale piccoli importi piccoli i turbo consentono di fare piccoli importi piccoli importi ma in reale perché il gap che c'è fra demo e reale vi assicuro che è un gap importante perché quando perdete 10, 20, 30, 50 euro in demo dipende e poi ognuno chiaramente ha le sue tasche ha il suo portafoglio ma quando perdete 50 euro in demo è una cosa se perdete 50 euro in reale comincia ad essere una cosa diversa quindi all'inizio soprattutto reale con piccoli importi quello che vi serve per farvi le ossa per vedere che anche in reale riuscite a portare a casa dei soldi allora a quel punto piano piano c'è tempo il mercato è sempre lì IG ci sarà sempre perché è un broker solido importante quindi non potrete migliorare anche le cose in futuro quindi andate con calma non scappa il mercato non scappa IG c'è sempre poco alla volta aumentate le site fino a quando poi arrivate ad avere quello che volete volete il vero vostro obiettivo insomma di realizzare magari un'entrata parallela al vostro lavoro non serve tantissimo perché se ci pensate tante volte ci pensano 100 euro uno diceva di 400 euro sì 100 euro per 20 giorni lavorativi sono 2000 euro al mese cioè certo come dice quello là non dico altro come ti diceva Eduardo De Filippo faceva troppo ridere posso far vedere una cosa Andrea posso far vedere questo allora a proposito di queste cose comportamentali qui sul mio sito culturafinanziare.com scopri come iniziare ora c'è una guida che vi ho scritto ho scritto io di pugno mio guida del 3 del successo l'ho chiamata e in realtà qua non ci sono tecniche non ci sono tecniche qua su qui c'è tutto approccio comportamentale cioè le cose che vi ho detto oggi gli errori da non fare come dovete approcciarvi al trading è gratuita quindi non dico altro quindi scrivete qua il vostro nome la vostra mail tra guida del 3 del successo leggetevela anzi studiatevela perché ci sono racchiusi 20 anni ormai più di 20 anni di esperienza di trading quindi penso e spero che sia una cosa granita a tutti culturafinanziaria.com va bene basta ho chiuso questo piccolo intermezzo ma mi sembrava doveroso bene guarda ti leggo le ultime le ultime domande beh c'è una che non è una domanda un nostro cliente che dice ha usato questa tecnica le 17.20 long sull'oro e ho chiuso in profitto perfetto grazie bravo poi un altro cliente dice c'è un ingresso ora su euro dollaro short conferma ora non so che ora era euro dollaro però non l'abbiamo non l'abbiamo subito qua dovrebbe andarselo a cercare però era le 18.16 insomma qualche minuto fa vabbè d'accordo andiamo a vedere se era vero no no dico subito di no sul 5 minuti poi non so che time frame aveva il nostro ascoltatore no perché quando le medie sono così così laterali è proprio quello che vuole evitare questa tecnica cioè questa tecnica vuole evitare i falsi segnali quindi non abbiamo le tre medie che sono disposte in modo in modo diciamo lineare ci sarebbe stato qua un ingresso però dobbiamo aspettare che chiudo la candela eventualmente poteva esserci qua l'ingresso quindi adesso le tre medie sono però non long short perché qui le tre medie sono orientate al ribasso quindi probabilmente chi ha fatto la domanda ha un time frame diverso con molte probabilità sì probabile o forse ti riferiva a un momento prima ecco e poi le medie che usa Bruno possono essere applicate in time frame più alti un'ora quattro ore un giorno hai detto prima che più il time frame è alto forse più no allora no no la risposta è sì assolutamente funzionano anche sul time frame più alti ovviamente io non le uso sul time frame più alti perché mi scoccio cioè io devo vedere il profitto subito chiudere subito portare a casa quello che succede domani un altro giorno però certo assolutamente se io per esempio non so sull'euro dollaro anziché dei 5 minuti vado a prendere un grafico orario andiamo a vedere che per esempio questo segnale ha funzionato molto bene chiaramente sono movimenti più piccoli magari ma comunque dal punto di vista di TIC sono molto ampi perché siamo su 60 minuti quindi qui si passa da un 1,1392 ad un'entrata grosso modo a 1,13 questa qui chiude quindi 1,1366 quindi si sono fatti i 30 pip di euro dollaro quindi assolutamente sì chiaramente poi si deve andare a regolare la size perché avendo anche degli stop più larghi su 60 minuti bisogna fare attenzione di non prendere poi degli stop troppo ampi quindi bisogna andare ad agire sul numero di contratti che andiamo a comprare e vendere bene perfetto grazie mille Bruno grazie per insomma le tue lezioni per le tue tecniche e anche la tua passione grazie a tutti quanti per l'attenzione grazie a voi grazie a tutti buonasera e buon trading a tutti grazie a tutti grazie a tutti